Ciao amici di GonzoTennis, bentornati, buongiorno. Ciao Fede. Buongiorno a te Fede. Come è andata la rapina? Bene. Bene, bene. No, e stamattina comincia a fare molto freddo qua al Ranch e ho dei lavori urgenti da fare. Quindi vediamo di fare in fretta qua perché il lavoro nei campi mi attende. Mi sono già anche vestito. È andato sotto zero qua e attenzione stanotte. Aspita, a Milano è una splendida giornata, molto fredda però bella. Ma voi avete lo smog che vi protegge, due o tre gradi in più rispetto alla campagna li avete sempre. Bello. Vero? Allora Fede, siamo reduci dall'ennesima impresa di Yannick Sinner perché dopo essersi qualificato aritmeticamente nel pomeriggio grazie al set perso da Djokovic non ha fatto assolutamente giochetti, calcoli o biscotti, ha giocato come è giusto che sia la sua partita e l'ha vinta. Partita che si è complicata contro Rune nella sessione serale. Tu eri là, Fede. Guarda, per il rispetto che ho per te non te la faccio nemmeno la domanda sull'eventuale biscotto se lo hai mai pensato. Perché ovviamente è roba da bar secondo me che non tocca questi campioni ma secondo me questi professionisti. anche perché c'erano punti, soldi, prestigio e poi mi sembra che a Sinner Rune non sia esattamente simpatico. Ecco, quindi perderci credo gli avrebbe dato un po' fastidio, no? Ma no, anche perché lui ha un conto aperto con pochissimi ultimamente e quelle che aveva li sta saldando. Con Rune insomma era rimasta la partita di Monte Carlo soprattutto da ridiscutere. e no, non ho mai avuto un dubbio su questa cosa. L'ho avuto, ero in tribuna con Fabio Colangelo che per primo, io si vede che un attimo distanto si è accorto che Sinner si stava toccando la schiena a un certo momento del secondo set. Insomma non è la prima volta che ha qualche dolorino la schiena Sinner, infatti ci siamo un pochino preoccupati, no? Anche perché poi è andato avanti per qualche minuto a toccarsi alla fine di ogni punto, la parte bassa della schiena. E allora poi quando all'inizio del terzo set sono andati in lotta in quel game, in cui Rune ha salvato due palle break, ha litigato con l'habito, insomma è successo un po' di tutto in quel game, l'unico interrogativo che mi sono posto è stato ma ne vale la pena se non stai tanto bene di lottare alla morte anche questo terzo set rischiando di aggravare la situazione, ma la risposta evidentemente ce l'aveva già lui. Evidentemente sì perché non era un dolore così pericoloso da smettere di spingere. Certo, se l'è complicata la partita la stava anche quasi perdendo perché nel terzo set ho visto abbastanza bene Rune e soprattutto ho avuto una palla break che Sinner ha annullato poco prima di breakare. Esatto, subito prima, ha avuto una palla break sulla quale Rune ha sbagliato una risposta di rovescio lungolinea su una seconda palla. Non impossibile. No, 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 la messa larga è un errore molto grave per Rune in quel momento della partita. Non pervenuto nel primo set, Rune come le temperature di Cuneo, no, NP, non pervenuto. E infatti anche nel pubblico che era meno caldo di quello dell'altro giorno con Djokovic. Oddio, stiamo sempre parlando di temperatura da ebollizione, ma forse appena sotto ieri sera. Anche perché il pubblico cambia. Pensiamo sempre al pubblico. No, il pubblico di ieri sera, in minima parte, era presentato... Ho incontrato un ragazzo ieri che si era comprato tutta la settimana. Infatti volevo chiedergli che lavoro facessero i suoi genitori. Ti ho chiesto, sei qua oggi? No, no, io sono qua tutta la settimana. Ebbè, no, no. E tanto voleva conoscere te, secondo me, più che me in realtà. Ah sì, perché era giovane. Esatto, parlavate lo stesso linguaggio. A un certo punto ho detto, no, perché sai, la situazione... Guarda che fino a situazione ci arrivo. Non so, vabbè che sono vecchio, ma... Comunque, no, mi sono perso nei miei discorsi. Il pubblico era leggermente meno caldo di ieri, indubitabilmente. Il pubblico cambia sempre, perché appunto i biglietti costantemente carichi e difficilmente uno si compra tutta la settimana. Però c'è stato un momento alla fine del primo set nel quale c'era un po' quell'atmosfera da, vabbè, allora la vince in ciabatte. E mi sembrava molto strano che Rune potesse mollare così, perché alla fine l'unico vero interessato era lui. Se vinceva avrebbe continuato. Se avesse perso, come poi è capitato, sarebbe stato eliminato. Sì, noi prima abbiamo parlato di Biscotto e non abbiamo approfondito, anche se immagino voi sappiate già quello di cui parlavamo. Ovvero sia, diciamo che Sinner, alla luce di quello che è accaduto nel pomeriggio tra Urkac e Djokovic, perdendo avrebbe eliminato Djokovic. Esatto. Invece viceversa, vincendo, lo ha tenuto in vita e ha consentito la qualificazione di Djokovic in semifinale che, insomma, ai fini del suo torneo non è eccezionale. Comunque, Fede, è normale che secondo me il pubblico fosse un po' meno caldo, un po' meno acceso, perché, gioco forza, lui ha iniziato la partita da già qualificato, quindi non c'era quella sensazione di dentro o fuori, mentre l'altra sera c'era Djokovic, c'era tutta un'altra roba. Ma infatti, credo che in parte questa differenza che si avvertiva di atmosfera, rispetto, non clamorosa, però, insomma, in campo si vedono meglio le cose rispetto alla televisione forse proprio dovuto al fatto che non c'erano rischi, ecco. Comunque fosse finita sarebbe stata un successo. Senti, ma la volé sulla pallabreque? Mamma mia. Eh. Non male, eh? No, no, proprio il canale dell'ATP sta mandando con frequenza i colpi migliori del Master, no, dagli ultimi trent'anni, da fine anni ottanti, insieme avanti in poi, e quella vola di rovescio con la palla così sotto il livello della rete, in avanzamento, con un po' di tagli in fuori, proprio mi ha ricordato, visto che era a bordo campo, il miglior Boris. Quando si giocava quel tennis. Molto bello. Allora, Fede, siamo arrivati quasi alle semifinali, abbiamo tre dei quattro semifinalisti, già da adesso c'è da stabilire la posizione di Daniel Medvedev e il compagno di Daniel Medvedev. Yes. Che, vai di sudoku. Verosimilmente, potrebbe essere l'avversario di Sinner. Allora, abbiamo i conti. Ok. La cosa più facile per oggi è l'ipotesi che riguarda Zverev. Cioè, è abbastanza semplice. Zverev va in semifinale a patto che vinca con Rublyov nella sessione serale e Medvedev gli faccia il favore di vincere con Alcaraz nel pomeriggiano. Più complessa le ipotesi che riguardano Alcaraz, che può essere qualificato come primo o come secondo. Viene qualificato come primo se vince e Rublyov batte Zverev. Se vince in 2-7 oggi e Zverev batte Rublyov. Viene qualificato invece come secondo se perde contro Medvedev e Rublyov batte Zverev. Oppure vince in 3-7 oggi e Zverev batte Rublyov. Comunque, la domanda che ti faccio è Sinner, chi vorrebbe affrontare? Si parla ovviamente del minore dei mali perché giocare con Medvedev, Alcaraz o Zverev è comunque una partita molto molto difficile. Allora. Ci ho detto, qualora dovesse qualificarsi Alcaraz, avremo i primi 4 tutti in semifinale. Allora, ti direi in ordine di preferenza Alcaraz, Zverev, Medvedev. Quindi tu metti Zverev davanti... Cioè... No, allora, secondo me potesse scegliere Sinner, tra questi tre giocherebbe contro Alcaraz. Ok. Contro l'Alcaraz di questa settimana, ovviamente, sempre che di questo stiamo parlando, non in generale, nella vita. Domani giocherebbe contro Alcaraz. Se non ci fosse Alcaraz, preferirebbe tra Zverev e Medvedev affrontare Zverev. E come sfida più difficile Medvedev. Sono d'accordo. È opinabile quella tra Zverev e Alcaraz, mentre credo sia abbastanza oggettivo il fatto che il peggior avversario possibile sia Medvedev. Allora, secondo me il discorso è questo. In questo momento, su quel campo, in queste condizioni di forma, io fossi Sinner, preferirei tennisticamente affrontare Alcaraz, che è più in difficoltà. Però il tennisticamente, in questo caso, non tiene conto del fattore mentale, che mentre Alcaraz si porta dietro da sempre la mentalità del vincente, Zverev può essere nella giornata in cui testa bassa e, bene o male, e mantiene la barra dritta. Ma invece noi sappiamo che un giocatore che magari ti fa il serve bot per un set e mezzo, ti lascia un 15 in 5 tonni di battuta e poi va sotto 0-40 in 30 secondi, non sa neanche lui perché. Quindi il discorso è un po' questo. Per le esperienze pregresse, per il successo che Zverev ha già avuto in questo torneo, non di molto, ma penso che facendo il conto di tutto possa essere preferibile Alcaraz, che ho visto proprio un po' invece mancare di gioco. Non è il vero Alcaraz, è un Alcaraz un po' diminuito. Invece Zverev è il vero Zverev, purtroppo per lui il vero Zverev comprende anche questo effetto collaterale che può giocarti un set e mezzo in cui non ti fa vedere la palla e poi improvvisamente gli si spegne la luce. A distanza dirai Medvedev invece. Medvedev possibilmente no. Sì, mentre parlavi me ne convincevo anch'io. Sì, non ha visto benissimo Alcaraz nei limiti insomma relativamente a quello che si può dire. Lo vedo soprattutto in difficoltà in risposta. Cioè vedo che gli dà molta noia questa superficie molto veloce dove lui riesce, non riesce a rispondere benissimo e quindi questo lo innervosisce. Mentre Zverev conosce perfettamente la superficie, anzi ci si trova benissimo qua sopra e ha già vinto due volte questo torneo una volta l'ha vinto qua. Sì, in definitiva siamo d'accordo. Alcaraz è un tennista che al di là della spinta formidabile nei suoi colpi ha anche questa capacità che so tu apprezzi particolarmente di fare tante cose in campo. Questa superficie giocoforza limita un po' le possibilità. Se ti ricordi uno dei pochissimi scambi che ci sono stati in cui si sono variati il peso della palla e gli angoli tra Sinner e Djokovic è stato quel bellissimo punto con gli stretti di dritto. Sì, sul 2-1-0-30. Esatto. Che poi è stato anche un punto che Liubicic nell'intervista che ha fatto su Sky con Sinner ha rivisto insieme ai anni che del quale hanno parlato. Ma ne parlavo l'altro giorno anche con Lorenzo Cazzaniga e diceva una cosa giustissima. Cioè questa superficie non è tanto il discorso come dice Alcarazzi è troppo rapida che sia rapida l'abbiamo anche detto fa parte anche un po' della natura di questo torneo e va bene così. Quello che succede è che appunto con le caratteristiche che hanno oggi i giocatori cioè di grandi servitori grandi risponditori grandi colpitori da fondo campo su questo terreno come Sinner ha spiegato anche chi prende il boccino in mano per primo probabilmente il punto lo fa e quindi è una gara che è più aggressivo più in fretta rispetto all'altro. I tipi di scambi che si vedono sono abbastanza simili tra loro perché a quella velocità e con quel ritmo e con la palla che non passa così alta sopra la rete è difficile cambiare le geometrie di uno scambio. infatti solitamente si fa boom 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 poi cambio e se ti si apre il campo magari fai un passo verso la rete altrimenti si continua di nuovo a martellare cioè è una superficie che per forza non restituisce tanto gli effetti della palla e quindi ti limita un po' e un giocatore come Alcaraz perde qualcosina. Sì e lo si vede anche da un punto di vista emotivo che non è non è molto tranquillo non è proprio forse si sente un po' come il primo Nadal quando giocava al Master un po' un giocatore che perde i suoi riferimenti Alcaraz ama moltissimo giocare il drop shot ma su questa partice quanti se ne vedono? Due a partita? E contro Zvere ve ne ha sbagliati tantissimi cioè tantissimi tanti in momenti anche anche importanti comunque Fede volevo volevo la tua opinione su sul fatto che ieri ad esempio delle reti televisive italiane come Canale 5 e Rai 1 hanno cambiato addirittura il palinzesto per la partita di Sinner come non capitava dalla Coppa Davis del 93 il mitico pesco solido quando diede 1-6-0 a Bruguera e poi tieniti forte sei seduto immagino sì è in prima pagina sulla gazzetta se non si chiedi e questa c'è una scrivania qua sotto non sarei poi così alto non sono tanto alto ma insomma è in prima pagina su gazzetta eh e beh cosa potevano fare? ignorarlo? non è scontato vabbè dai c'è un limite a tutto ha battuto Djokovic non era non era la notizia più grande in prima pagina c'era giro di Walter per Mazzarri al Napoli uh wow vabbè questi anni Callenburg che piacerebbero anche a Stefano Semeraro che salutiamo direttore di Tennis Italiano Tennis Italiano che è stato acquistato da Domenico Procacci lo dico con interesse perché collabora anche con quella rivista che è stato il mio primo lavoro nel tennis nel 2001 redattore del sito web di Tennis Italiano e no non lo so ma Fede guarda quello che dovevamo dire su su gazzetta secondo me no 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 di gazzetta che era una battuta volevo parlare del fatto che viene cambiata la programmazione dei palinsesti tv per una partita di round robin cioè ieri mi ha chiamato un'amica che lavora a Rai 2 che è di Alba come me lavora da tanti anni in Rai è molto brava si chiama Chiara Prato conduce il telegiornale sul secondo canale e ci siamo fatti una chiacchierata su Sinner e mi ha confermato che che anche diciamo nei corridoi e scrivanie nel quale il tennis non è mai entrato in Rai adesso ne parlano tutti tutti vogliono Sinner parlare di Sinner raccontare Sinner le ho dovuto dare insomma anche qualche qualche avviso soprattutto perché magari le tv generaliste poi cercano sempre di trovare il lato personale vi raccontiamo fuori dal campo Sinner lui in questo è molto molto riservato e quindi c'è poco da sforcugliare dei fatti suoi secondo me giustamente si sa poco e lui è molto bravo a tenerseli nascosti e nel suo nel suo stanzino privato sì tre risultati che ha raggiunto ha vinto la sessantesima partita l'ha superato quota 6.000 punti che sono tantissimi e soprattutto ha messo un bel margine sul sul quinto quindi adesso non sono esperto di conti però credo qualche quasi sicuramente in Australia sarà testa di serie numero 4 e sarà il primo slam in cui ha una difesa importante della della sua posizione sì cambia molto essere 4 comunque va bene Fede non c'entra niente ma ho anche visto che ho la maglietta addosso tu lo riconosci questo? sì John Kennedy sta avvicinando il 22 di novembre e quest'anno il 22 novembre alle 12.30 in Dealey Plaza a Dallas 60 anni fa il 22 novembre del 1963 quando Kennedy è stato ammazzato da Lee Oswald e sai che io sono uno dalle passioni insane se mi fisso su una cosa e una di queste è Kennedy mi sono letto un sacco di documenti ufficiali eccetera e trovate tutte le mie ricerche su www.johnkennedy.it un sito che io ho aperto nel 1997 e mi fa piacere dire questa cosa di autopromozione che solitamente faccio con fatica ma questo per me è una veramente soddisfazione che il mio intervento verrà mandato in onda alla Camera dei Deputati in una sala della Camera dei Deputati il 22 novembre in una conferenza dedicata all'assassinio Kennedy wow così basta finito e comunque è stato Lee Oswald fatevene ragione io per anni ho consumato la videocassetta del film di Oliver Stone che è un film straordinario ma purtroppo no purtroppo non è un purtroppo le cose non sono andate come dice lui c'è uno scritto su un altro video non moltissimo tempo fa qualche qualcuno che voleva confutare questa tesi sì vabbè però sbattete male con Ferrero no nel senso che cioè confutatela pure ma prima mi dovete dimostrare che conoscete bene il caso e non ste quattro fregnacce che avete sentito in qualche trasmissione vista su YouTube dovete portare un curriculum prima di no io ho quelle quattro cinque domande no che mi fanno capire se se tu ne sai o meno per esempio chi è Charles Crenshaw nel caso Kennedy io non lo so Carlin Arnold chi è ecco se tu sai chi sono queste due persone già no Crenshaw è uno dei dottori del Parkland Hospital che finse poi di essere stato uno dei soccorritori di Kennedy anche se non era vero è stato un personaggio di secondo piano che poi si era inventato testimone di cose che aveva visto solo lui invece Carlin Arnold è una delle impiegate del deposito dei libri della Texas School che sorge proprio in Dilly Plaza che è il palazzo dal quale Oswald ha sparato a Kennedy quindi quindi questo è un test d'ingresso cioè se sapete rispondere a queste domande ma sai perché sono una questione di rispetto io per 30 anni ho macinato queste cose qua poi mi arriva uno che ha visto due documentari e dice no tu non capisci la CIA i cubani la mafia i petrolieri sei un ingenuo no l'ingenuo sei tu che crede a tutte le fregnacce che ti raccontano ma sai ecco la pallottola magica è immarcescibile quella cioè la gente continua a pensare che un colpo di fucile sia come un pugno cioè siccome la testa di Kennedy va indietro dopo che gli hanno sparato il secondo colpo allora dico beh allora il colpo arriva da davanti perché se io ti do un pugno in faccia la tua testa va indietro se io ti do un pugno alla nuca la tua testa va avanti e no gioia la balistica forense non funziona come la box però sai anche di vabbè dai ci siamo perdi va bene siamo partiti con Sinner l'abbiamo chiuso con Kennedy sempre sorprendente grazie Fede noi torneremo verosimilmente dopo le semifinali sperando di presentare la finale di Sinner ciao Fede